Andrea Valfré, sound engineer e producer, ma io so che in realtà il titolo ufficiale che ti hanno rilasciato all'Università di Orlando è molto più complicato, ti lascio la parola. Allora, associate of science in sound engineering, però è una cosa che sanno solo loro, che qui non viene capito e non ha neanche, è una laurea americana, quindi qui non so neanche se si è riconosciuta, non ho mai avuto bisogno di farla riconoscere. Bene, facciamo un passo indietro, perché questa intervista a cui tengo evidentemente molto è complessa, perché Andrea è l'amico con cui io collaboro da più tempo in assoluto, proprio dagli inizi dell'attività di Velut Luna, reciproco, e capiremo presto perché, e soprattutto è una collaborazione, non siamo mai stati soci, noi non siamo mai stati formalmente soci, se non di fatto, se vogliamo, cioè abbiamo condiviso esperienze, abbiamo condiviso esperienze, spazi, quello dove siamo, che è il Magister Recording Area, che è casa mia, perché la maggior parte dei progetti Velut Luna nascono qui, insomma, e quindi non era facile, perché sono talmente tante le cose che noi vorremmo e potremmo raccontare, che infatti abbiamo dedicato qualche decina di minuti per cercare di dare un'impostazione. Ma partiamo dall'inizio, cioè... Sì, partiamo dall'inizio, e siamo incerti su quando sia, però noi ci siamo conosciuti nel... Seconda metà anni 90, 96... No, sì, 97, 96, fine 96 e poi è partita la collaborazione fino alla primavera del 97, fondamentalmente. Momento in cui io stavo lavorando, come tutto fare, con l'Accademia di San Rocco, che era un'orchestra barocca che poi è diventata Venice Barocca Orchestra, e ci siamo conosciuti perché tu invece stavi facendo una registrazione per loro. Esatto, un concerto dal vivo. Io stavo all'epoca, avevo finito, o stavo finendo un corso per tecnico del suono a Bologna e quindi ero estremamente affascinato da tutto quello che stavi facendo, per cui ti ho chiesto, posso venire ad assisterti? Sì, pensando che fosse un po' meno faticoso fisicamente di quello che poi è stato, però è stato molto istruttivo per me vedere queste cose che poi tu eri uno dei primi a fare, tra l'altro, perché... Beh, insomma, sì, non eravamo tantissimi, ecco. Non eravate, sì. A fare quel tipo di cose lì, fuori studio... Infatti i 4-bit... Beh, certo, l'alta risoluzione... L'alta risoluzione non è che tutti. Assieme a Matteo siamo stati i primi in Italia. Matteo Costa, sì. Eh, sì, quindi io, che ero un ragazzino, era estremamente affascinato da tutto questo mondo, che era diverso dalle mie frequentazioni, che erano pop rock, studi piccoli, demo tape, si facevano i demo tape, quel mondo lì. Esatto. E' chiaro che volevo fare un salto di tipo professionale, questa mi sembrava una delle opportunità per farlo, capire un po' di più come giravano le cose. Poi in realtà, dopo aver fatto il corso di Bologna, ci ho pensato per un po', ma poi sono perdito per gli Stati Uniti, per avere una formazione più specifica. Sì, ma adesso ci arriviamo, perché quello per me è stato anche un fulmine al ciel sereno, perché, ripeto, da questo incontro estemporaneo di settembre, poi si è in qualche modo strutturata una pur piccola collaborazione, soprattutto sulla piazza di Venezia, che insomma è una città difficile da gestire. Tu invece la conoscevi, la frequentavi, avevi le infrastrutture. Ricordo quella registrazione a Santa Maria Novella di musica contemporanea con Claudio Ambrosini e soprattutto il finale di quella registrazione, raccontalo te, alle 4 di mattina. Si è andati avanti tantissimo a registrare, perché c'erano rumori di ogni tipo e quindi bisognava rifare continuamente vibrazioni, vaporetti, gondolieri, Venezia. Sì, c'era il ciclo, ricordo, siccome eravamo al centro di una sorta di circuito di gondole, ogni 15 minuti passava o sole mio sulla destra e quindi bisognava interrompere. Sì, sì, e quindi era stato particolarmente difficile arrivare ad avere tutte le prese che servivano e si è fatto molto tardi. Poi bisognava smontare tutto e portare tutto in barca. Eh sì, la barca. E lì eravamo fortissimi. Il problema non è mai stato ce la facciamo fisicamente, ma c'è abbastanza tempo per farlo. Esatto. E però abbiamo, l'abbiamo, siamo andati vicini a far cadere in acqua lo 02, che è un mixer pesantino. 20 chili di mixer, 22. Con te anche. Sì, io e il mixer, perché in pratica funzionava che tu eri sulla barca, bordo riva, e io ti stavo porgendo il mixer e quando un colpo d'onda allontana la barca, quindi tipo Willy Coyote sono rimasto sospeso fra la laguna e il bordo. Un attimo è volato, però dai ce l'abbiamo fatta. Esatto. E lo 02 c'è ancora, è fra noi. Esatto, è vivo e vegeto. No, dicevo, questo breve periodo perché appunto nella primavera del 97, a ritorno da una registrazione a Torino, mi comunichi che stai per partire. Sì, 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 avevo capito che per quanto bello fosse spaccarsi la schiena a Venezia facendo il tuo assistente e gli altri lavoretti che facevo, non avrei potuto fare il salto che volevo fare se non avessi avuto una formazione un po' più seria, insomma. Quindi sono andato, avendo scelto fra tante scuole possibili quella americana di Orlando, ho deciso di partire, insomma, cosa che non si fa a cuor leggero perché era una cosa che costava tanto, si stava via tanto tempo, era... Due anni circa, no? No, no, in realtà era tipo due anni in uno e mezzo. Andare in America è stata un'avventura meravigliosa perché è stato bello sia dal punto di vista didattico che lì c'era tutto quello che potevi volere. Poi adesso ci sono ancora queste scuole un po' in tutto il mondo, ma sono... Ovviamente loro cercano di fare numero, per cui hanno tantissimi allievi e un numero limitato di infrastrutture che possono dare agli allievi. All'epoca c'erano... cioè ognuno aveva il suo studio, era bellissimo. E parliamo dell'università di Orlando comunque. Sì, è privata come tutte le... Beh, come tutte le scuole americane. Però riconosciute a livello universitario ti danno un diploma universitario. Certo. Del periodo americano io ricordo, cioè vorrei così ricordare due episodi, uno goliardico e uno invece serio attinente alla... Quello goliardico che mi è rimasto molto impresso è che tu ti sei drogato. Di pollo fritto. Esatto. Di pollo fritto. Sì, sono tornato dagli Stati Uniti con 12 chili in più, insomma. Oh, ma... D'altra parte lì mangi cose buonissime che sono piene di estrogeni e quant'altro, per cui un hamburger diventa una tetta e così funziona. No. Sì, vabbè. Ok. Cose belle, a parte il rapporto così umano, sociale con gli americani e soprattutto con gli europei che erano lì come me, c'è stato di molto bello anche il rapporto con uno dei miei insegnanti che è John Lawson, che è un tecnico pazzesco, vecchia scuola, analogico, super figo, lui faceva, lo chiamavano analogrambo, girava con... cioè lui stava, ti parlava con la lametta tra i denti perché era pronto a tagliare il nastro quando serviva, la qualcosa gli era valsa poi la nomination ai Grammy per John Fogarty e lui... Niente meno. Lui faceva le magie, cioè lui riusciva a quantizzare la batteria tagliando fettine di nastro due pollici, stiamo parlando. Sì, ecco, specifichiamo perché adesso uno pensa ai computer e al click che tutti noi facciamo per tagliare, lì si tagliava con la lametta un nastro. Ma no, quello che era strano è che lui faceva tagli tipo da 10 millisecondi sul nastro, quindi... Certo, micrometrici. Fettine di nastro storto, inclinato, non più prendo la cassa, non prendo il rullante, così dentro ci sta... ed era, faceva né più né meno quello che si riesce a fare oggi col computer con una velocità disarmante e con una sicurezza che gli invidiavo perché tu hai un nastro su cui magari hai lavorato una settimana e cominci a farlo a pezzi ed è quello il master, quindi sì, ci vuole, bisogna sapere bene che ti piace quello che stai per fare. Esatto, ma hai citato John Fogarty e probabilmente servono molti altri artisti, ma il mondo audiofilo deve sapere che questo signore è quello che ha registrato Amused to Death, che è uno dei dischi audiofili per eccellenza di Roger Walker. sì, perché era anche uno dei primi digitali veri registrato su Sony 48, sì, beh, lui lì ha fatto... lui era in quel periodo il in-house engineer di Ocean Way, quindi ne ha visti tanti, non solo Roger Waters e Roger Waters, la cosa interessante di quel disco che lui mi ha detto è stata, guarda, sì, è stato mixato in sei mesi e poi in mastering hanno fatto un tocco di equalizzazione e basta, perché era perfetto sei mesi, sei mesi all'Ocean Way penso che sia un budget di una... non so, non è quantificabile. Eh, immagino, sì. E poi sì, anche il suo ruolo non è che ha registrato o mixato, probabilmente era una squadra di cui lui faceva parte come tecnico di Ocean Way, quindi... sì, comunque, sì, di quello so tante cose, perché mi le ha raccontate lui, è proprio... Beh, allora, ti faccio una domanda, sei libero di non rispondere, il cane, racconta del cane, di Amuse to Death, l'effetto del cane fuori campo. Non ne so niente, non ne so niente, però sarà stato un cane? No, perché c'è questo effetto del cane che sembra fuori dall'immagine. Sì, sì, mi ricordo che lo conosco benissimo, tra l'altro lo conosco bene e lo conoscevo già quando sono andato e come tanti altri dischi che erano all'epoca di quelli nuovi, innovativi, e lui sapeva esattamente cosa era stato fatto, per cui ho imparato tanto di prima mano, insomma, ma come anche in post-produzione, ho imparato tante cose, uno dei miei insegnanti aveva fatto Matrix. Ah, sì, niente meno, insomma, ok. E quindi lì, che poi qui in Italia è uscito molto dopo, mi sembra. Un paio d'anni dopo. Quindi io già lo sapevo, beh, bello, un'esperienza bella anche quella. Comunque, John, meraviglia, come hanno fatto a fare gli tom di tambu? E lui lo sapeva, sì, beh, la sala è molto bella. Quelle cose che quando sei agli inizi sembra che ci sia un mare infinito tra quello che puoi fare e quello che hanno fatto laddove si può. Invece non è così, cioè, alla fine l'acustica è quella, gli strumenti sono quelli, bisogna saper mettere i microfoni dove vanno messi e poi quello si fa, insomma, non c'è niente di esoterico. Oh, e poi torni e mi ricordo che mi arriva la telefonata, ciao, sono tornato, sono qua e sono a Villa Condul. Sì, è andata quasi così. Più o meno. No, è andata così. Semplifico, ma... Allora, quello era uno degli studi che mi piacevano. Quando sono dovuto tornare, non era facile rimanere negli Stati Uniti e quindi volevo capire bene se valeva la pena di provarci, nel senso che, chiaro che lì le opportunità sarebbero state tantissime e avrei dovuto fare il percorso classico da runner, t-boy, assistente e poi forse qualcos'altro. E se fossi riuscito ad ottenere un visto? Bello, una possibilità, ma prima di finire la scuola sono venuto in Italia per vedere come buttava, cosa succedeva e ho avuto un abbaglio perché quando sono venuto, per una coincidenza inspiegabile, il destino, mi è stato passato un lavoro che poi invece è diventato... era un disco che potevo fare, ho detto sì dai lo faccio, ho un mese di tempo, lo faccio e poi sono tornato di là a finire gli studi e durante... devo ringraziare Sandro Scala che mi ha passato quel lavoro e durante l'ultimo mese in cui finivo gli studi a Orlando quel disco ha venduto un milione di copie tipo... Diciamo anche qual è perché è un disco molto famoso... È il disco di Luna Pop, sì... Il primo disco di Luna Pop... L'unico che poi... Sì, beh dopo lui si è separato... E niente, quindi siccome il proprietario dello studio di Villa Condon, Herrera, conosceva il produttore e sapeva che ruolo aveva avuto in quel disco, ha detto sai mi serve... Quando io ho chiamato lì avevo già una presentazione da parte di un amico insomma, quindi loro avevano bisogno di qualcuno che stesse dietro allo studio in quel periodo per cui mi hanno preso... No, ricordiamo che lo studio di Villa Condon, Herrera, negli anni 80 è stato forse uno degli studi di riferimento... Anche 90, sì... Anche 90, non solo italiano, ma ci ha registrato da Shadet ai Simpli Red, ovviamente Vasco Rossi, cioè il primo disco meraviglioso di Vinicio Capossela è stato registrato lì e questo tu... Io sì, perché all'epoca ero solo un fan e non ancora un tecnico e insomma dicevo uno studio all'avanguardia, belle macchine, bello studio e soprattutto di fianco a un albergo imperiale dove i musicisti arrivavano e avevano la piscina... Quando c'erano i budget per poter parlare di queste cose, sì... Tu sei arrivato alla fine, naturalmente... Io sono arrivato quando non c'erano più quei budget in Italia, però dall'estero sì qualcosa... Era bello perché dal punto di vista creativo si potevano ancora fare molte cose... Non era strano, abbiamo fatto alcuni dischi dove si stava in studio un mese, un mese e mezzo a registrare solo e questo era molto bello. Più con un paio di band tedesche è successo questa cosa, c'era un produttore tedesco amico mio, Peter Schmidt che è tornato più volte, poi anche altri e anche grazie a Bob Benozzo abbiamo aperto un canale di lavori con la Spagna che poi ha portato ad altro dopo. Sì, di cui parleremo fra un po', il mondo latino. E quindi lì c'era un bel fermento in quello studio, era veramente bello, era uno studio di quelli grandi, sovradimensionato per quello che il mercato stava diventando, infatti poi l'ha chiuso perché non aveva senso portare avanti un... Ricordiamo, erano due sale, una diciamo principale che era nell'interrato al piano terra, che aveva il banco NIV 88... No, NIV V3. Ah, il V3, il V3 e la sala, fra virgolette, piccola, che in realtà piccola non era... La sala, la regia è molto più piccola, però la sala era bella, era un... Aveva un'acustica naturale, bellissima. Esatto, perché era la classica casa colonica con il fienile sopra e le stalle sotto, dove c'erano le stalle, scavando hanno ricavato questa sala grandissima, che però era molto asciutta, molto morsa, perché essendo stato costruito negli anni Ottanta, l'estetica era quella per cui volevano suoni controllatissimi, eppure essendo grande avevi la batteria che suonava fermissima, invece sopra avevano lasciato tutto com'era, grandi finestre che davano sul noceto e tra via vista, bellissimo, esteticamente stupendo... Anche acusticamente... E anche acusticamente faceva la sua figura perché c'era il suono più vivo che in quegli anni invece andava... erano gli anni di Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers... Sì, gruppi che del suono reale, acustico hanno fatto un marchio, insomma, e noi ovviamente ci arrivava dopo l'ondata, ma eravamo abbastanza condizionati da quell'estetica. E lì noi ci reincontriamo per quella che è stata uno dei dischi Vellut Luna di maggior successo di tutta la storia dell'etichetta, cioè Mancini Dry, era il 2002, che abbiamo registrato da te, in un pomeriggio, la mattina a fare i bilanciamenti, tre ore al pomeriggio registrato il disco con Massimo Salvagnini, Paolo Birro, Alfred Kramer e Aresta Volazzi al basso, in diretta, tutti in sala e quello è stato un po' il reincontro, diciamo, fra di noi, da cui poi è proseguito. Ne abbiamo fatti tantissimi. A quel punto si è riaperto, sono riaperte le gambe. Guarda, è stato, io sono arrivato lì nel 99 e dal 2000 al 2003 abbiamo sempre lavorato lì. Eh sì, assolutamente. E poi, 2003, altro break clamoroso. Altro break perché di là chiudono e io mi trovo senza studio e allora avrei potuto fare tante cose, però avevo anche una coda di dischi da fare, poi all'epoca in un paio di circostanze avevo anche firmato contratti per cui dovevo consegnargli questi dischi. E niente, ho dovuto trovare una soluzione e velocemente, in modo incredibilmente veloce, abbiamo costruito questo studio con un'operazione un po' folle. Traduciamo veloce, cioè dal momento dell'idea che era fine settembre del 2003 alla prima registrazione fatta ad aprile. Sì, ancora più veloce, sono riuscito a mettere il piede qui il primo di gennaio del 2004 e il primo di gennaio stavo disegnando i muri per terra col gesso e il primo di aprile stavamo registrando la big band. Esatto, il primo disco che è stato un disco valut luna. 34 elementi, una roba... No, erano un po' meno, però c'era l'orchestra, batteria e pianoforte in sala grande e solamente i cantanti nella sala piccola, che in sala piccola c'erano ancora i calcinacci in realtà. Sì, sì, era un disastro, non c'era la finestra. Sì, una cosa veramente ruspante, però è partito ed era, guarda, mi ricordo io benissimo 4 e 5 aprile del 2004, se non sbaglio, quindi proprio... Sì, e quello è stato... Mi ricordo anche che però abbiamo fatto un disco in casa anche. Sì, ma quello perché ancora non c'era, era ottobre, non c'era lo studio e non c'era neanche l'idea di questo studio, cioè si stava cercando... E questa casa era libera per cui siamo venuti... Esatto, esatto, abbiamo fatto il disco dei Libra. Dei Libra. Dei Libra, così, con il banco poi mixato col 3002 in garage, nel garage della casa... Abbiamo mixato col banco in garage, non si sentiva niente, pazzesco. Sì, 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 in cuffia perché praticamente l'acustica non c'era. Sì, sì, cose abbastanza eroiche per certi versi. Sì, ho rimosso perché... Sì, no, io invece ho una memoria molto analitica su questi episodi della mia vita. Comunque poi da lì parte tutto, diciamo che lo studio più o meno è andato a regime in un anno circa, con tutte le regie... Ah, con tutte le regie sì, ci ho messo un bel po', infatti mi è costato anche salute perché ricordo che appunto stavo facendo questi primi dischi, fra cui le orme, e mentre facevo loro alla mattina, parentesi, loro hanno provato in salotto da me mentre io costruivo lo studio. Poi abbiamo cominciato a registrare e dicevano no, non ce la fai a costruire lo studio entro quando ci serve, e lei invece dai ce l'abbiamo fatta, in modo un po', sì, come hai detto tu, ero gambolesco, veramente era un cantiere, però ce l'abbiamo fatta e sono andato avanti a finire di costruire lo studio mentre registravo. Sì, perché ricordiamo che questo studio è questa regia che è quella principale, ma ci sono due sale, ci sono altre tre regie, iso, butto, cioè è una struttura molto complessa. E per fortuna che l'ho fatta così, perché adesso essendo in tanti ci diamo una mano ad andare avanti. Esatto, non sarebbe sostenibile se non ci fosse questa sorta di unione delle forze di almeno quattro realtà, la tua e altre tre. Con, in realtà, una ventina di persone che ci gravitano intorno, perché quella è la cosa bella, che tutto dà una mano a pagare il conto, insomma. È certo, assolutamente. Comunque. Sì, no, dicevamo che io nei primi mesi ho fatto questi dischi di giorno e di notte finivo di fare lo studio, fino ad arrivare a esaurirmi fisicamente, per cui a un certo punto stavo proprio lasciandoci le stricche, non ho dovuto fare una pausa di brutto, perché sennò... Apriamo un altro capitolo importante, perché poi ovviamente lo studio fa il suo lavoro e quindi cominciano a girare artisti anche pesanti dal punto di vista non solo della qualità, che è sempre un po' un elemento caratterizzante, ma anche della notorietà, che sappiamo essere due cose che magari non sempre vanno insieme, però a volte sì. Allora io adesso ti faccio... Con una certa notorietà non puoi trasgredire, non puoi fare proprio schifezze. Non potevi, perché adesso invece va di modo a fare schifezze anche. Allora, adesso io ti farò delle domande provocatorie per dare l'abbrivio. Allora, la prima domanda è, è vero che il cobra non è un serpente? Eh, sì, la risposta è un dato riservato, però tutto fa pensare che non lo sia. No, questo vuoi riferirci a Donatella Rettore, o Rettore come lei... Che è stata qui, che ha fatto il suo disco qui, è stato veramente bello farlo. Una bella collaborazione con lei... E col produttore anche. Il produttore, che è suo marito, e col chitarrista. Una bella squadra, ci siamo divertiti dal punto di vista umano, è stato bello. Tra l'altro ha collaborato tantissimo a quel disco, anche Paolo Stefan, che è un amico, ed è uno dei musicisti, produttori, di cui ho più stima in assoluto. Lui, già lo conoscevo perché ha sempre fatto tutti gli lavori di Pino Donaggio. Certo. E Pino Donaggio, anche lui, veniva a registrare sia al Condor, che qui. Tra l'altro abbastanza di recente, un anno e mezzo fa, fatto con i Solisti Veneti, un disco. Due dischi. Due. Bello. Mi è piaciuto il lavoro del Rettore, con Paolo, sempre tantissimo. Bello. Grande esperienza. L'altro nome che sicuramente ha una soglia di notorietà mondiale piuttosto importante è la Laurona Pausini, che è passata an passant, come si dice, di striscio, ma importante. Abbiamo registrato le voci, in italiano e in spagnolo, di un singolo, e perché mai doveva venire qui, visto che c'è il suo studio e tutto, è venuta qui perché Mauro Ferrucci produceva la versione più dance, più da discoteca di quel, non so come si dica adesso, insomma, di quel singolo, che era Resta in ascolto. e lei è andata, poi tra l'altro dopo è andata ai Grammy con quel pezzo, però io non c'entro, nel senso solo ho registrato le voci. Certo. E è stato bello perché lei è bravissima, è durato un giorno, non è che sia... Mauro Ferrucci è di mestre e quindi era più pratico far venire lei qui che spostare tutta la squadra. Tutta la baradana. Quindi sono venuti... Mauro Ferrucci è amico di Roberto Piazzon che fa la manutenzione di tutto quello che vedete e che è dentro questo studio, quanto me... Al 110% Sì, è venuta qui e devo dire è bravissima, cioè bravissima davvero, cioè lei a fare delle sue cose è veramente eccezionale. Le potevamo fare tutto con una take sola, ce ne ha volute dare tre, proprio per confonderci, perché erano tutte belle, in italiano e in spagnolo indifferentemente, con un relax estremo. Ha finito prestissimo e è stata carinissima. Altro artista che magari non è sufficientemente valutato, anche soprattutto dall'aspetto tecnico, ma che è un grande artista con cui tu hai avuto a che fare sempre sul fronte delle voci, è Umberto Tozzi. Beh, sì, Umberto Tozzi ha fatto due dischi qui, un signore, devo dire, sai, poi arrivi anche in una posizione per cui non è che devi dimostrare continuamente qualcosa, qualcuno, chi sei. E lui è, anche lui, in gran relax è riuscito, ha fatto questi due dischi veramente in modo assolutamente spensierato e ci siamo trovati bene dal punto di vista così, umano. E' venuto qui anche Greg Mattinson, il suo produttore, perché voleva assicurarsi che lo studio fosse adatto a fare quello che dovevamo fare e gli è andato molto bene. Abbiamo pensato insieme il percorso del segnale, della voce e tutto. E basta, questo è quanto. Abbiamo fatto anche dei cori qui con Chiara Luppi per quel progetto lì. Sì, sì, sì. Oh, e arriviamo al tuo rapporto di amicizia e lavorativo con Bob Benozzo e soprattutto quello che questo ha in qualche modo partorito. Cioè, un dettaglio da niente, tu a un certo punto hai detto, ma sai, devo andare a Las Vegas perché c'è sto premiuccio, i Latin Grammy, no? Sì, sì. Parliamo. Sì, Bob. Rewind, Rewind. Bob l'avevo conosciuto appena, poco dopo che ero arrivato a Zermann, perché lui faceva dei, abbiamo fatto insieme diversi progetti del proprietario dello studio, poi, quindi certe cose di Sabrina Salerno, certi artisti che lui voleva produrre. Abbiamo fatto tante cose insieme e siamo diventati amici. Avevamo evidentemente un modo di sentire i valori in gioco che era simile e così anche al di fuori dello studio ci si trovava. Era un periodo molto bello e lì ho conosciuto veramente quelli che poi sono state le persone che continuo a frequentare ancora adesso, gli amici veri, insomma, e con cui ancora lavoro quando si può. Ivan Prevedello, un sacco di persone che gravitavano intorno allo studio per vari motivi. E quindi da lì sono arrivati alcuni lavori che faceva poi AltaVox con Emanuele Ruffinengo. Loro sono sempre occupati del mondo latino. Quando poi è stato Bob a prendersi, a essere lui direttore di AltaVox, ha continuato a portare i lavori lì e anche a prendere me e portarmi via dove serviva. E una delle cose che abbiamo fatto in Spagna è stato un gruppo che si chiama ancora Chambao. Per quel disco lì ho avuto la nomination io, come per Best Engineering, e quello è stato di grandissima soddisfazione, ed era Houston, si facevano Houston e Latin Grammy. E lì è stato un po', ma sai, vedi, è un po' una disillusione, oltre che una soddisfazione enorme, chiaramente, però anche vedi che tu vai lì e la musica è l'ultima cosa, è l'ultima cosa, che è un po' un adagio in tutto quello che facciamo, ma è soprattutto uno spettacolo televisivo dove loro pensano non al tuo dischetto, ma ai 100 milioni di telespettatori che hanno, e agli sponsor, e a tutto quello che circonda questo business gigantesco. Quindi sì, ti vedi messo un po' da parte, fai un po' parte del pubblico, un po' parte di quello che gira intorno al futuro. Della scenografia. Della scenografia, esatto. Della coreografia. Il che va benissimo, cioè il nostro ruolo va bene. È che proprio anche la musica, all'epoca non... Adesso lo dico e mi fa quasi ridere di esserci rimasto quasi male, no? Ma invece no, è business, è show business anche quello, per cui è facile da capire perché vadano così le cose. Sì, è che metti un po' in secondo piano tutte le pippe che ti fai di super qualità, di la registrazione, deve essere fatta in quel modo, in realtà poi quasi non gliene frega niente a nessuno. C'è una giuria competente che determina chi può avere la nomination ed è composta da operatori del settore e c'ero anch'io perché quando hai la nomination ti dicono ma vuoi esserci anche tu nel... Sì, d'accordo. E per l'anno dopo sono stato io, ma poi vedi che ti presentano un sacco di registrazioni di cui all'epoca poi non avevi accesso a tutto e ti chiedono di questi secondo te chi ha la nomination. e tu dici ma aspetta, questo non lo conosco, questo... Ah, questo l'ha fatto un mio amico, questo l'ho fatto io, beh, crocetta. E quindi mi immagino che poi la cosa vada così. Comunque bello, istruttivo, bellissimo, sempre America, sempre fantastico. Poi all'epoca quando ero lì a Houston è successo che un mio cliente di qui invece voleva fare il mastering a Sterling, a New York e quindi sono andato lì e lì con Greg Calbi, che per me è tocca. Grande Greg Calbi. E lì il bello, bellissimo, Greg, questo piacerà al tuo pubblico probabilmente perché siamo andati lì e avevo questo disco composto di una decina di pezzi, cinque fatti in questa regia prima che finissi il trattamento acustico e cinque fatti dopo che io avessi finito il trattamento acustico. E Greg sente, perché lui prima ascolta sempre tutto, cosa bella, e poi dice sì, ma su questi cinque pezzi c'è un problema in regia e poi perché hai proprio questa frequenza che hai due db più alta su questi pezzi invece? E aveva capito tutto, aveva fatto l'analisi dei problemi che avevo prima in regia e li aveva risolti. Grandioso, a orecchio, senza macchine, senza guardare analizzatori, proprio a volo. Beh ma sai, è l'aspetto umano, come diceva Silvano Zanta, che tu ben conosci nella sua intervista, che puoi avere tutte le macchinette del mondo, ma se non hai l'orecchio per sentirla. Cioè la musica è una cosa che si ascolta, si misura anche, ma si ascolta. Si ascolta e anche si vive. Cioè lui, quello che, alla fine quello che mi chiedeva era ma volevi davvero dire questo o volevi dire un'altra cosa? Era l'altra cosa e quindi ha corretto e funzionava benissimo, il disco è molto bello, sono tutti contenti. Sì, poi gli Sterling ho lavorato anche con, prima che morisse, con Giorgio Marino. Giorgio Marino, grande Giorgio Marino. E lui era ancora più, come si dice, meno tecnico nell'apparenza, cioè faceva un esame di tipo artistico di quello che doveva fare e dava pennellate molto larghe e funzionava, era a suo modo più così. Una cosa interessante, secondo me, da sottolineare degli Sterling, sono gli strumenti d'ascolto perché loro usano sia componenti professionali, come si dice, per quanto non so, diffusori, amplificati, eccetera, sia altoparlanti di derivazione Ohm. Sì, adesso non so, non so adesso... Tu dicevi che usavano le Pro-A-Sì? Sì, quelle grandissime. Sì. Non so se le usino ancora, non so, adesso è molto che non ci lavoro, anche perché ho trovato il mio riferimento in Simon e Howard come master. Certo, che ben conosco, visto che ha masterizzato il nostro disco di Chiara. Presto, sì. No, però sottolineavo questo per dire che a volte ci sono posizioni anche negli audiofili, no? Talebane, allora, professionale no, Hi-Fi sì, oppure no sì, no sì. In realtà tutti gli strumenti sono funzionali a quello che dobbiamo fare, giusto? Esatto, loro è l'ultimo anello della catena e probabilmente vogliono sentire come poi verrà ascoltato nel miglior caso possibile fuori. Certo. Noi abbiamo necessità di avere cose del lato Pro perché devono anche subire le sollecitazioni del lato Pro e uscirne viva, insomma, penso che se avessi qua... Poi le Pro-A-Sì potrebbero anche essere usate in studio senza problemi. Tu hai parlato però dei Grammy così quasi da spettatore, ma tu ne hai vinto uno? Io ho fatto un disco che ha vinto... Eh, vabbè, insomma, basta capirsi nei termini, ma il concetto è quello. Allora, sì, allora abbiamo fatto, sempre grazie a Bob che mi coinvolge in queste cose, il disco di Luis Enrique, che non è un calciatore, soltanto, no, è un'altra persona e che ha avuto un enorme successo. Messicano? Messicano, ma che vive a Miami, tu sai che il sud degli Stati Uniti parla 50% spagnolo e loro, lui ha avuto un successo enorme lì. Noi avevamo fatto il singolo, che era Inos e Magnana, che è stato, ha avuto la nomination come singolo ai Latin Grammy e basta. e siamo andati lì a Los Angeles, bellissimo, bellissimo, no, no, Los Angeles, scusami, era a Las Vegas, era bellissimo perché, intanto perché era la seconda volta che andavo, per cui l'ho presa molto di più come una gita, mi sono divertente, è venuta anche Loredana, la mia compagna, abbiamo fatto il green carpet, facendo finta di essere divi e la gente ci cascava, è stato divertente, proprio bello. E poi, dopo questo episodio che ha vinto, sì, che ha avuto la nomination, poi invece lo stesso disco è andato anche ai Grammy, Grammy, dove dove però non sono andato, perché, anche se ne è 23, non sono andato perché, perché sì, in realtà tutti sti viaggi negli Stati Uniti, una distanza dall'altro, non è che riesci proprio, anche economicamente, ma anche come, non è che puoi essere tanti dallo studio per dieci giorni. Sì, poi nove ore diffusa o a distanza di un mese, uno dall'altro. E quindi non ci sono andato, anche perché avevo lavori qua, che mi sembravano importantissimi, adesso non ricordo neanche cosa fossero, però sì. Beh dai, tutti i lavori sono importanti. Sì, è vero, nel momento in cui lo stai facendo, beh, era il 2009, per cui so cosa stavo facendo, stavo lavorando con Marvin Azioni, che è un produttore americano, detto Mandolin Man, lui suona il mandolino benissimo, suona con Bob Dylan, con gente di quel calibro lì, ha prodotto certi dischi, certi pezzi di Counting Crows, ha fatto cose notevoli, ed era qui a fare un disco con la mia squadra preferita, che sono tutti i turnisti che girano intorno allo studio e che sono gli amici dei tempi. Di sempre, certo. E' bello, ci siamo molto divertiti, per cui anche se mi sono perso che il disco prendeva i Grammy, vabbè. Vabbè. Senti, abbiamo sforato ogni tempo possibile, però è stato molto divertente, ma sapevo che andava a finire così. E niente, qui come sempre, noi siamo come i gatti, abbiamo nove vite, per cui pandemie, non pandemie, casini, non casini, qua si va avanti sempre. Avanti sempre. Ma hai paura, come diceva l'amico Massimo. That's all, folks. Sì. Arrivederci alla prossima. Alla prossima, che è tra poco. Va bene, ciao. Ciao.